Salve a tutti giocatori, benvenuti in un nostro nuovo video rapido e veloce di aggiornamento perchè a novembre uscirà una cosa bellina bellina carina picciò prima di iniziare come al solito vi invito a iscrivervi al nostro canale di passare i link social in descrizione e rimanere sempre aggiornati col mondo di Yugi grazie mille e andiamo a vedere, penso che abbiamo la data per i supporti Sky Striker ma andiamo a vedere con calma annunciategli Holiday Box per novembre edizione che uscirà appunto il 4 novembre 2022 per un prezzo più o meno tra i 25 e i 30 euro diciamo facciamo una roba del genere più o meno e ogni edizione conterrà un pacco di 70 sentite eh, ora lo dico 70 foderi 70 slips e con non so se le fontilline sono fatte con al retro uno in uno dei sei design Sky Striker ok in una delle sei versioni di Sky Striker Mayagash o Witch Crafter mo vi spiego perché non mi tornavano i conti ma mi sono tornati adesso 4 booster pack con 5 carte ultra la per pack queste cose, questa edizione qui è praticamente lo Secret Shiny Box che uscì quest'anno in Giappone il 25 dicembre appunto che conteneva appunto due versioni dei Mayagash, due versioni di Sky Striker e due versioni di Witch Crafter ecco perché una delle sei varianti perché sono due 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 in questa edizione erano praticamente tre box diversi ognuno appunto aveva un artwork differente c'erano anche delle piccole non dico miniature di roba di plastica caruccetta alla fine niente di troppo elaborato ma comunque bello tosto poco studiato ma sanguigno diciamo non è un termine mio ovviamente però lo riprendiamo citazioni potentissime e penso in questo set ci saranno incluse tot carte vecchie tot carte nuove come c'era stato in serie come c'è scritto set includes a mix of new and old cards praticamente le carte nuove AMP Linkage dove sei? eh sto facendo il panico Linkage e le carte Mayagash e Witch Crafter che avevamo già visto in precedenza millenni fa secondo me sono queste alcune delle nuove carte perché secondo me qualche import importante ci sarà ma vabbè non mi metto a rileggere gli effetti perché già l'ho letti l'ho letti a novembre e quindi queste credo siano le carte comunque che faranno parte delle nuove carte che faranno parte del set come vediamo qui ci sono le ristampe Sky Striker Mayagash Witch Crafter Zombie Shiranui Dunking Relinquista Anima e altra roba quindi ve le faccio vedere un attimo qui senza cliccarci tutte le volte quindi potrebbero esserci tot carte che vediamo qui e magari altre carte altri import che potrebbero essere molto molto importanti al momento non ci sono immagini quindi per la copertina dovrò veramente sbizzarrirmi però vabbè detto questo fatemi sapere voi cosa ne pensate secondo me è una bella notiziona questa quindi quindi ok è una bella bella cosetta quindi ok fatemi sapere cosa ne pensate noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti e un saluto a tutti grazie a tutti